Quanto tempo dedica oltre l'hockey al tempo libero? Sicuramente l'hockey porta via tanto tempo, ma c'è sempre tempo anche, soprattutto d'estate, per andare a fare una partitella di tennis oppure a giocare a beach volley. Devo dire sempre con i compagni, stavamente anche di fuori della stagione siamo un gruppo molto unito e anche lì il tempo libero lo trascorriamo spesso e volentieri assieme. Spesso insieme, ma in vacanza quest'anno va con la famiglia? La famiglia è sempre il numero uno, la famiglia anche, visto che è l'inverno, non dedico tantissimo tempo alla famiglia, l'estate sicuramente ha priorità la famiglia. Per andare in vacanza probabilmente andremo solo in montagna, visto che non dobbiamo sempre andare lontano perché abbiamo bellissime montagne, quindi si può trascorrere le ferie anche da noi. Grazie.